Ciao, qui è Demicoli dalla Ise, siamo nel ultimo giorno, è stata una fiera fantastica, abbiamo un numero di visitatori che ha superato i record passati, tutti sono molto contenti, ho parlato anche con gli espositori, ho parlato anche con i visitatori, sono tutti contenti di questa fiera, cresce ogni anno, adesso tutte le sale sono pieni, sono pieni di gente, molto traffico. Quest'anno abbiamo fatto anche come ogni anno 30 seminari, perché noi abbiamo il 75esimo anno della Infocom, abbiamo deciso di dare due di questi seminari gratis a tutti i visitatori che sono venuti, un'azione con molto successo, è una fiera che dà augurio a un futuro molto buono per l'industria AV.